Musica Abbiamo una cagnolina Asia che patisce tantissimo e lei era abituata in casa purtroppo è stata anche male, abbiamo dovuto ricoverarla anche in clinica perché lei non mangia ma non ingrassa ed è disperata, infatti adesso dobbiamo tenerla in cucina perché lei è l'unico luogo che le ricorda la famiglia è una cagnolina che ha bisogno di conoscere la persona e di avere fiducia perché in effetti non ne ha più molta nelle persone bisognerebbe almeno venire due o tre volte per fare un piccolo percorso conoscitivo però veramente adesso dobbiamo fare proprio questo appello del cuore, lo faremo su tutti i canali possibili perché questa cagnolina deve andare a casa, miracoli ce ne sono stati perciò siamo super contenti e vorrei che questo anno 2016, che è un anno bisestile, finisca in bellezza con l'adozione di Asia e lei è una cagnolina giovane diciamo, matura ma è giovane però ha patito veramente questo grande abbandono, la sua mamma umana è mancata e lei è finita qui da noi e questo nonostante che sono passati ormai un anno non riesce a mandarla giù ecco